Benvenuto per questo inizio video Ora dai buoni propositi per questa giornata I buoni propositi per questa giornata sono queste Ho questo, non lo avete voi Bene, allora Puoi elencare le persone che non sono venute oggi? Beh Oh Rattla Boselli Che roba Cosa ho fatto? Non l'ho fatto Eh? Non l'ho fatto Eh? Chi è? Un'idrolitina? Eh? Chi è idrolitina? Non lo so 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 Allora Cosa abbiamo qua? Claudia, devi fammi vedere Allora qui abbiamo Una salsa Della 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 E' una cocktail La cocktail Quoi abbiamo una gelatina di Chianti Gelatina di Chianti Il crostino toscano A questa piace molto E una salsa tartufata Da abbinare? Da abbinare con la carne Oh, i formaggi Bene, bene E poi dopo un- Un po' di marmellatine da abbinare con la carne marmellate, per la sema, per i besinagro dolce, salsa di melone... Ma cos'è un pranzo alla francese questo? No, no! Oh signora, buongiorno eh! Diciamo anche i baci oggi! Poco pane eh! Poco pane! Ti sei limitata eh! Perché i carboidrati... Ecco, perché siamo magri e non dobbiamo mangiare... Perché i carboidrati, mi raccomando, era caldo, mi piaceva tanto! Che profumo eh! Perché il panettiere che non era male... Ah, il filoncino... Una bella pulisse d'aglio... Tre... Peperoni... Sierosmarino, peperoni... Pistà graspa che c'era... Si si si... Attenzione allo spostaggio dell'ombrellone... E poi le cipolle... Le sigulle... Che è la regina della cucina del resto... Poco, la cipolla è sempre la cipolla eh! Allora... Le sigulle... Le sigulle... Ci sono una squadra del peperone rosso... Della cipolla... No, della cipolla... Per piacere... Massimiliano, da Cassini San Giovanni... Eh si eh! Io devo andare a facciare te l'olio... 21 anni dai! Si, quasi... 21 anni studente... Modello... Studente... Ma come hai imparato a cucinare? Eh, praticamente... Da piccolino... Dove vieni? Mia mamma... Ha fatto da mangiare... Io ci ho guardato e ho imparato... E' giusto, giusto... Quindi tradizionale? Si... Tradizionale... Un po' di valser... Mazzurca, forse... Hai visto il nostro cuoco? Io sto preparando... Tutto il barbada... Da che sei son due anni? Ciao! 47 anni! La madonna... Scusi... Non si può dire... Eh la ma... Non si può dire... Non si può dire... Si devi dire la tua madonna... E che cosa ci abbiniamo? Che vino ci abbiniamo? Allora... Questa giulienne cruda... Ci abbiniamo un vermentino di gallura... l'ora perché poi le passeremo alla griglia in venti minuti ah ma c'è anche il timer sulla griglia perché ora dov'è nina però manca manca quello con i capelli bianchi che è? Depp e bigazzi che veniva bene a cura beh avete già finito la presentazione oh? eh ma lei non si dice cosi spesso c'è un bicchiere di bianco acqua, non potrò fare mezza bottiglia prima buono questo vino, ho detto che le devi tagliare meglio tesoro cosa fai? tesoro non si taglia così il peperone mulona fulgo ma come hai tagliato il peperone? dai oh verrà che che rompito la cittura sapere il inizio a mezzogiorno volete? i rapanelli fulgo si mangia così io li butto qua ma che bello e che c'è da qui? e poi ti arrangi da solo sono tutti i cazzi tuoi tanto non li butto dentro sordi così no non lo so è stata veramente di quelle volgo bisogna tagliarli bene il peperone grazie Irma di vestire anche questa gioia non sei no 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 troppo piccoli fulgo fulgo ma mira la tecnica stava molto bello aspettando dei pegnonesi neutralizzare la videocamera di me buongiorno buongiorno dai dai denuncimi adesso dai denuncimi eh? e la madonna che senti tanto cane ha fame? ha fame ha arrivato il mio soggetto preferito ciao isa ciao mario aia cacca aia cacca aia cacca Luca! Ciao Sobri! Ciao Mari! Ciao telecamera del mare! Il mare è venuto sui bicicletta eh! Si? Si, ed era morto! Questa qua è la tua bicicletta eh! Ha fatto male quel cammino! Ci potete denunciarlo anche lui? Oltre me? Si! Oh è partito i cipolloni eh! Ficciola! Ah la spiaggia c'è a fare! Sì! 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 Oh dormi tu io stanotte! Ho dormito molto anch'io! Sono un po' cotone! Cotona! 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 Ma c'è l'upone! Ma l'upone buono! Un beccolo! Ora siamo qui, ma... Infatti Luigi li faceva il verso di lui! Famiglia della costa Diciamo delle volte la Nuova Zelanda il mare è brutto al contrario adesso che non vanno perché adesso ce l'ho visto brutto ce l'ho visto brutto sai che gli ombrenone hanno anche le basi le basi questo va detto a volino il mercatone subito adesso ma sono buoni questi fiori qua li ho già mangiati vari mi stai mangiando la cipolla cipolla infatti è limone con l'aglio buona